Sono andato lassù e sono ritornato, non mi hanno voluto. Siccome sono un tipo battagliero, ho sconvitto pure, come si sol dire, il diavolo. Il sorriso dietro la mascherina straborda attraverso lo sguardo di chi sa di avere vinto una battaglia con la morte. Angelo Razza oggi può raccontare di aver affrontato il coronavirus e di averlo sconfitto dopo settimane di sofferenza. Lo raggiungiamo all'uscita dell'ospedale, dove è appena andato a ritirare la sua cartella di dimissioni e quella della moglie Tiziana, ricoverata insieme a lui nel reparto di malattie infettive del Vittorio Emanuele. Assieme a lui ripercorriamo quei giorni terribili che lo hanno portato tra la vita e la morte, intubato nel reparto di terapia intensiva. L'incubo è finito, ma di quei giorni Angelo ricorda ancora la paura. Brutti, brutti, brutti. Però grazie al reparto di eccellenza che abbiamo, reparto di rianimazione di eccellenza che abbiamo a Gela, grazie a loro sono ritornato in vita. A un certo punto della tua malattia ti è stato detto che ti dovevano intubare. Cosa ricordi di quel periodo? Niente, nulla, nulla. Per l'intubazione io vedevo che respiravo male, ho visto che mi mettevano l'ossigeno normale e anche una maschera per farmi respirare di più, ma non ce la facevo. Mi hanno intubato, dopo non ricordo niente. Angelo ricorda i primi giorni della malattia, quando quella che sembrava una semplice febbre si è trasformata nell'incubo Covid. A casa ho avuto una febbre fortissima, più di 40 gradi. Poi quando tossivo e buttavo il muco, in mezzo c'era il sangue, ho chiamato il 118 e mi sono fatto portare al reparto rianimazione. È arrivata la sentenza che era il coronavirus, cosa hai pensato in quel momento? Cosa ho pensato? Di sconviggerlo. E di fatti ci sono riuscito. Però è stata un pochettino pesante. Con lui in ospedale la moglie Tiziana, colpita anche lei dal virus, che non ha risparmiato tanti componenti della sua famiglia. Anche mia moglie, ma in modo più lieve, perché lei riusciva a respirare, saturava bene i polmoni, con la cura dovuta, sempre grazie alla rianimazione e al reparto malattie invettive, siamo riusciti a sconviggere il suo virus. A casa c'era mio figlio che era dall'inizio positivo, poi gli hanno dato una cura, gli hanno fatto i tamponi, da tre a cinque tamponi, dopo il secondo tampone è risultato negativo. Qual è stata la prima cosa che hai fatto quando sei ritornato a casa? Ho ringraziato tutti, dai medici agli infermieri, poi quando sono arrivato a casa era negativo il mio figlio, ho abbracciato il mio figlio, perché mia figlia purtroppo è a Roma a studiare. Le dicerie che si sono dette su Facebook, che io manco conosco, e ci sono state persone che hanno detto un sacco di fezzerie che mia figlia abbia portato su coronavirus, ma non è vero niente perché, ripeto, mia figlia è a Roma dal dicembre dell'anno scorso. Oggi per Angelo e Tiziana il coronavirus è solo un brutto ricordo. Quel diavolo che voleva portarselo via, adesso Angelo se lo lascia alle spalle insieme ai suoi giorni di sofferenza in ospedale. A casa lo aspettano Tiziana e il figlio Antonio, nell'attesa di riabbracciare l'altra figlia, quando ritornerà da Roma. La guerra contro quel nemico invisibile è finita. Per Angelo adesso è tempo di tornare alla normalità.